Lei con cosa fa colazione al mattino? Un cappuccino e una pasta. Con la frutta io la faccio. Io da 30 anni biscotti col tè. Ogni tanto cambio, yogurt, marmellata, però frutta la mattina non la mangio prima di mangiare a mezzogiorno. Bombolone e caffè. Caffè latte e tre fette biscottate con la marmellata. Qui al mare con una pasta, invece quando sono a casa due noci a digiuno perché fa bene il colesterolo. E lo yogurt con le bacche di goji dentro. La buona colazione italiana com'è? Yogurt. Yogurt, frutta. Fette biscottate. Sette di soia e gallette con marmellata. Con latte prima colazione. Metà mattina frutta. Yogurt di tutti i tipi. Nient'altro. In famiglia siamo in tre. Io faccio colazione con un toast e un succo d'aranze e caffè. Mio figlio mangia di solito anche lui salato o un toast o una pasta salata con l'acqua perché non gli piacciono succhi o cose del genere. Invece mia moglie è solo con un caffè. Una colazione biologica, una colazione proposta questa mattina, cosa avete degustato? Abbiamo assaggiato lo yogurt e i mirtilli, molto buono, i biscotti al cioccolato bio e il latte di soia. Può essere un'alternativa alla colazione salata? Sì, direi di sì. E quindi a questa moglie che beve solo un caffè cosa possiamo proporre? Consigliamo lo yogurt e due biscotti non di più.